Anche quest'anno nel tempo forte della Quaresima invitiamo i giovani a darsi un tempo per fermarsi, per pregare e mettersi in ascolto della parola di Dio. È il tempo degli esercizi spirituali per i giovani, maggiorenni. Quest'anno vivremo il tempo degli esercizi nel monastero delle Benedettine di Cagli, dalla sera di venerdì 31 marzo fino al pomeriggio di domenica 2 aprile, quinta domenica di Quaresima. Quest'anno saremo guidati da una voce femminile per gli esercizi, guiderà le meditazioni su Orgina Masi, della Casa Fraternità di Nazareth, della Diocesi di Camerino San Severino Marche. Il tema di quest'anno è proprio centrale al sinodo dei giovani per il quale ci stiamo preparando, il discernimento. Aiuteremo i giovani nel clima del silenzio e della preghiera a incominciare a vivere questo esercizio del discernimento. Quindi invito tutti i giovani ad iscriversi il prima possibile in modo da organizzarci al meglio per questa occasione unica che abbiamo nell'anno per offrire ai giovani spazio di silenzio, preghiera e animazione vocazionale.